Allora, buonasera a tutti, benvenuti. Aspetta a me soltanto due parole iniziali. Prima di tutto per un grazie, da parte della casa editrice Il Mulino. Grazie innanzitutto ai nostri amici di San Domenico, a Padre Giovanni, con il quale da molti anni oramai si è instaurata una bellissima collaborazione. Grazie a Massimo Cacciari, che ancora una volta intraprende un'impresa, un'avventura importante con noi. Abbiamo iniziato insieme oramai molti anni fa, tra l'altro ricordavamo poco prima, abbiamo inaugurato qui la serie dei comandamenti nel 2009. E grazie innanzitutto a voi che siete qui stasera. Approfitto veramente per pochi minuti soltanto per dire che per noi è veramente una festa, stasera è una bellissima occasione. Non parleremo soltanto di questo libro straordinario. Questo libro inaugura una serie di libri, inaugura una collana. E tutte le volte che un editore apre una serie di libri, intraprende appunto una nuova avventura, è una sfida, l'ambizione di portare i lettori a guardare il mondo sotto un'altra angolatura, in qualche modo a cercare di illuminarne un aspetto rimasto opaco. In questo caso sono le immagini a offrirci in questa occasione, le immagini che sono traccia da sempre della nostra cultura e della tradizione occidentale. La nostra è cultura immaginativa. Immagini e pensiero si intrecciano e si schematizzano perennemente, e questo ce lo spiegherà bene Massimo Cacciari. Ma ce ne sono alcune che sono particolarmente fondanti, alcune che ancora ci feriscono, che sono cariche, cariche di energia, cariche di valore cognitivo oltre che estetico, ci costringono a pensare, portano in sé significati simbolici, antropologici, potremmo dire sinteticamente che toccano aspetti sacrali e esistenziali dell'umano. Allora la sfida qual è? Portare i nostri autori a interrogarle, a scandagliarle, in un corpo a corpo, in un faccia a faccia concreto, quasi un incontro pericoloso con queste immagini, per farci capire perché appunto sono ancora fondanti anche per il nostro tempo. Qual è il concetto, l'idea che si portano dietro, che ci costringe a pensarle come imprescindibili. È un'avventura che tocca a Mantegna, a Kieffer, da Bosch, a Rotko, da Clint, a Warhol e molti altri. Cominciamo intanto stasera con questo straordinario quadro, appunto interrogato da Massimo Cacciari, questa madonna col bambino di Mantegna. Quindi lascio ai nostri ospiti la parola e vi ringrazio ancora per essere qua. Grazie. Grazie Alessia, grazie al mulino che viene qui a presentare col libro di Massimo Cacciari, La collana sulle icone, che è coordinato sempre da Massimo. e grazie per aver sfidato il freddo la cattiva stagione. Per fortuna che, come avevano annunciato, non è venuta a nevicare. ma siamo contenti qui adesso di riflettere insieme su quello che questo libro di Massimo ci dà l'occasione di fare. Bentornato Massimo perché, come ricordava prima l'Alessia, sei già venuto altre volte a presentare i libri del mulino e non solo quelli del mulino, anche altri libri e sei di casa qui al centro San Domenico e ai nostri martedì. Ma veniamo a presentare questo libro che qualcuno di voi già possiede perché so che nelle librerie è già stato ampiamente acquistato. Chi è di voi che ha già il libro di Massimo? E gli altri sono quelli che l'acquisteranno adesso, questa sera. Io sono tra quelli che l'ho già letto, questo libro, e mi sono anche posto delle domande che ho il piacere questa sera di rivolgere anche a Massimo. Ma per quelli che non l'hanno letto vorrei anche presentarne un po' il contenuto, gli argomenti che tratta. Perché la prima cosa che può stupire è proprio il titolo di questo libro. Io almeno quando l'ho letto, mi è stato presentato, Cenerare Dio è un titolo che stupisce e provoca anche, no? Perché non è da noi generare Dio. Gli uomini generano gli uomini, gli animali e gli animali. La generazione avviene all'interno della stessa specie. E sappiamo che chi di noi segue la fede cattolica che anche in Dio il padre genera il figlio, ma Dio genera Dio. Ecco, in cosa allora si riferisce questo libretto che ha di solo cento pagine, ma ha un contenuto che è molto impegnativo. Cercheremo di disimpegnarlo adesso. E' un libretto che è dedicato a un argomento preciso, quello che anche la Chiesa cattolica intitola a Maria, alla Madonna, che è madre di Dio. Anche dogmaticamente è stata nel concilio di Efeso proclamata la Teotocos, la madre di Dio, la Dei Ipara. Ma Cacciari non non affronta l'argomento da un punto di vista dogmatico, ma dal suo punto di vista di cultore della filosofia e cultore anche della teologia. Ecco, brevemente per riuscire a inquadrare questa ottica che segue Massimo Cacciari, vorrei dire, farò solo una considerazione che con lui ho già fatto un'altra volta, su quello che è il metodo che lui usa per affrontare e approfondire i suoi argomenti. E' il metodo che ho definito del confronto. Lui procede sempre per confronti. Quest'estate quando abbiamo parlato dell'umanesimo ha concluso meravigliosamente in un confronto tra Erasmo da Rotterdam e Lutero. Prima ancora tra l'artista Alberti e Picco della Mirandola. Ecco, questa tecnica, questo metodo del confronto gli permette di mettere in luce e di far risaltare quello che è la caratteristica che più a lui preme di mettere in risalto. Infatti il libro nel primo capitolo su Maria, sul nome di Maria procede con un confronto tra Maria e le donne che figurano nella genealogia del prologo del Vangelo di Matteo. Soprattutto nel secondo capitolo che è intitolato come Dio matura, come Dio nel seno di Maria è nato, è cresciuto, è maturato, fa il confronto con San Giuseppe alle spese anche di San Giuseppe perché è il confronto tra l'annunciazione come è presentata da Luca che ha come protagonista Maria e l'annunciazione di del Vangelo di Matteo che ha come protagonista invece San Giuseppe e poi il confronto invece prosegue soprattutto attraverso quello che è il tema il compito di questo libro di presentare delle immagini e parlando dell'annunciazione la riflessione di Massimo si rivolge alle grandi annunciazioni di Simone Martini di Piero della Francesco del Beato Angelico ma soprattutto il il confronto che nei primi capitoli di questo libro viene portato avanti è quello che avviene nell'annunciazione tra Maria e l'Angelo è un confronto che che come dice Massimo suscita prima di tutto turbamento ed è questo soprattutto che il dipinto di Simone Martini mette in risalto ma che finisce con l'accoglienza di Maria ma soprattutto quello che è importante sottolineare in questo avvenimento è la capacità di meditare quello che sta avvenendo da parte di Maria la meditazione e questa è una pagina che mi piacerebbe portiamo a ascoltare perché io le mie parole sono povere rispetto a quello che la densità dell'esposizione che fa cacciare a questo punto il concepimento di Maria è unito alla meditazione che lei fa su quello che sta avvenendo meditare significa raccogliere riunire raccogliere significa anche in qualche modo distaccarsi da quello che sta avvenendo in lei e e questi elementi sono tutti presentati da Massimo in questa pagina che vorremmo ascoltare adesso pagina 29 e 30 sulla meditazione e il concepimento da parte di Maria nel momento dell'annunciazione così medita Maria così medita Maria come concependo e l'ha ascoltato raccolto e ora matura in sé fa maturare e lascia maturi in sé ciò che ha raccolto perché esso maturi e cresca è necessario sia custodito meditare è perciò anche un custodire conservare in sé la verità che appartiene a ciò che si è ascoltato e raccolto e che dunque non è un nostro prodotto non ci appartiene per quanto giungiamo a meditarlo mai potremmo determinarne la provenienza e il destino concepirlo è metterlo alla luce farlo esistere nella sua pienezza di vita inoltrarsi con lui per il cammino che sembra indicare nella misura in cui ne siamo capaci quanto più la meditazione è in partecipe ascolto del problema che l'assilla quanto più fermamente in sé stessa lo conserva e custodisce tanto più riconosce che la redice che lo alimenta sfugge ai propri metra sa di custodirlo ma il suo sapere non esercita alcun potere su ciò che custodisce nei suoi confronti essa è ontologicamente umile di questa altissima umilitas dello stesso pensare è icona il concepimento di Maria ecco grazie ma questo questa icona di Maria che concepisce il figlio che è il figlio di Dio questa icona è rappresentata soprattutto da Massimo nel nel capitolo nel capitolo quinto quello dedicato all'infante al bambino questa icona è la relazione tra Maria e Gesù tra la madre e il figlio questa relazione che abbiamo come sentito unisce queste due persone ma nello stesso tempo le distanze le differenze tra di loro viene questo questo rapporto che è da Massimo considerato come la vera icona di tutta la fede cristiana in questo rapporto tra madre e figlio definita come una prossimità che salva la distanza credo che l'espressione è di Simone Weill e Massimo sviluppa questo tema attraverso la riflessione non solo della annunciazione della nascita di Gesù ma quello che unisce l'annunciazione della nascita di Gesù alla croce alla deposizione di Gesù nel sepolcro nascita e morte sono unite soprattutto in questa icona che trovate nella copertina del libro adombrata nella prima pagina ma presentata nell'ultima e anche nelle figure illustrazioni dentro il libro è l'icona che ha dipinto Andrea Mantegna e che presenta Maria con Gesù che dorme in braccio a lei Gesù avvolto nelle fasce e questa è un'immagine di Gesù bambino che lo accosta già al tema della morte della sepoltura della deposizione è Maria che in questo vincolo in questo rapporto di amore materno di compassione verso il figlio si sente unito a lei ma lo sente anche destinato a distaccarsi da lei lo deve abbandonare è anche un intero capitolo dedicato al tema e fuori che è un aspetto della vita di Gesù che molte volte ci sfugge il fatto che lui quando ha un incontro anche nello stesso tempo si sottrae a chi è con lui e questo già lo sappiamo nel ritrovamento di Gesù al Tempio nelle nozze di Cana nel miracolo della moltiplicazione dei pani Gesù a un certo punto sfugge perché non è destinato a rimanere con con gli altri o a essere misurato dalla comprensione degli altri perché c'è qualche cosa sempre che sfugge alla comprensione degli altri e in qualche modo anche a Maria perché lei stessa accompagna il figlio si lascia accompagnare e medita su quello che accade senza poterlo comprendere fino in fondo e così anche concludo questa presentazione con questo tema che mi piacerebbe che ormai dopo che Massimo approfondisse il tema della della luce che si incarna in Gesù attraverso Maria è un tema che viene spiegato attraverso l'immagine dell'ombra dell'ombra è un'immagine molto importante e significativa perché dietro queste parole dell'angelo a Maria la potenza dell'altissimo ti coprirà con la sua ombra questa ombra è sinonimo della nube di una nube che torna molte volte nella nella Bibbia ricordiamo per esempio la nube che accompagna il popolo di Israele nell'Esodo e che il teologo Il Kongard considera il primo tempio che che Dio ha stabilito col suo popolo il tempio come il luogo dove Dio che è trascendente però si comunica al popolo e lo faceva attraverso la presenza di questa nube che scendeva sulla tenda di Mosè ma la nube anche come presenta Massimo Cacciari in questo libro è la nubia che non c'è solo nell'ombra dell'annunciazione ma anche nella trasfigurazione di Gesù perché non è il luogo dove Dio si nasconde ma è il luogo dove Dio si rivela si manifesta e Gesù e Maria sono questa ombra di Dio questa manifestazione di Dio in in questo aspetto luminoso ma anche in questa sempre copresenza di aspetti luminosi o negativi la nube dell'esodo era chiamata la nube luminosa e San Giovanni della Croce la vede come espressione della fede che è è nube nasconde da una parte ma nella fede anche rivela manifesta la presenza di Dio ecco l'ultima cosa che volevo accennare prima di passare la parola a Massimo e eventualmente anche dopo rivolgergli qualche domanda se a piacere è questo la funzione che lui in questo libro riconosce all'icona l'icona trattata in rapporto e questo è negli ultimi capitoli che lo fa l'icona trattata in rapporto con con il mito pagano e e con la concezione gnostica le immagini gnostiche che ci sono date lui parla soprattutto dell'icona occidentale della nostra icona occidentale fa anche un confronto non tratta però noi siamo abituati a concepire le icone come quelle della spiritualità bizantina no? lei parla invece dell'icona occidentale fa solo tratta di Pavel Florensky alla fine ma mi piacerebbe che anche lui facesse questa chiarificazione tra il ruolo che ha l'icona occidentale contrassegnata da un suo realismo con con quello invece che sono le immagini che vengono dai miti che sono anche state riprese dalla letteratura gnostica ecco questi sono i temi vedete che la panoramica che Massimo Cacciari ha di fronte nel trattare nel dare pensiero alle immagini questa panoramica è molto vasta comprende tutta la letteratura i Vangeli nostri propri i Vangeli apocrifi i Vangeli tutta la letteratura anche che vada da Dante Alighieri in poi ecco io volevo a conclusione complimentarmi con lui per questa per questa trattazione così profonda che fa di quello che rimane un mistero per noi cristiani il mistero dell'incarnazione di Dio e anche il mistero di questa relazione che viene stabilita tra tra Maria e il figlio di Dio con la sua nascita e con l'accompagnamento che lei fa di tutta la sua vita in questa alternanza di luce e di ombre che va dalla nascita alla croce alla morte e dalla morte alla risurrezione e anche questo fa parte di questo rapporto di luce e ombre che dovremmo seguire grazie quindi a Massimo per questa quest'opera che ci lascia e è un invito a ciascuno di voi di prendere in mano questo libro e di approfondirlo anche attraverso tutti gli altri aspetti che noi non possiamo qui adesso sottolineare solo posso su questo tema ultimo che abbiamo trattato dell'icona anche su questo per capire un po' come Massimo mette a fuoco quest'argomento ascoltare alcune righe che sono nella pagina 85 86 l'icona dipinge invece questa fanciulla vergine perché integra nel suo stesso far luogo in sé non occupata da altro che dalla volontà di accogliere fanciulla che non avverte affatto nel procreare una pena bensì soffre per il destino del figlio che ha generato e che ama l'icona dipinge una relazione tra madre e figlio in cui maschio e femmina restano indelebilmente segnati in cui l'unità del simbolo è unità di contrari e unità di differenti momenti all'interno di ciascuno e la sofferenza che costa salvarla non viene mai nascosta ma anzi ne costituisce lo stesso cuore vivente il segno della croce nell'icona sta al centro della stessa natività e la risurrezione segue realmente alla morte reale nell'agnosi tutto appare pregiudicato nell'icona invece il giudizio crisis può venire soltanto al termine del dramma i suoi momenti sono irriducibili a simboli astratti croce è crocifisso natività la presenza di questa fanciulla col suo bimbo in itinere simbolica è la stessa realtà il mito non ha a che fare con figure reali poiché pensa che esse non siano che immagini l'icona ne fa immagini poiché pensa che la loro realtà terrena sia simbolica grazie e grazie a Massimo vorrei che adesso lui dicesse qualche cosa su questi temi o su qualche altro aspetto di questo libro che gli interessa mettere in risalto grazie 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 Giovanni grazie a voi dunque questa è un'immagine che che ci segue no? che ci che ci persegue da sempre questa immagine della della madre col bimbo è forse la più la più conosciuta la più nota la più la più familiare e la sua familiarità può può portarci molto fuori strada perché perché diventa un'immagine apparentemente semplice tranquilla quanti quanti santini no? di questa di questa madre col bimbo e invece nella storia delle nostre immagini ce ne sono alcune che che anche le più importanti che provocano che fanno pensare che danno a pensare il senso della collana in generale è questo l'immagine non è una una illustrazione l'immagine non è la rappresentazione di un discorso che ha in sé il suo significato e l'immagine lo lo veste diversamente una sorta di indumentum che io metto sopra un significato per cui tolto l'indumentum ecco il significato no? l'immagine è un simbolo c'è una bella differenza tra una illustrazione un'immagine nel senso banale del termine è un simbolo il simbolo dà da pensare dà significato dona significato no? Sengebung direbbero i tedeschi una donazione di significato quindi è un significato continuo è obbligo ad una ad una ad un'interpretazione che continua ecco le immagini che abbiamo della della donna col bimbo quando appunto non sono illustrazioni più o meno sentimentali e zuccherose sono di questo tipo sono icone ecco perché uso il termine icona anche per quanto riguarda la tradizione occidentale perché l'icona ha questo accezione ha questo valore simbolico che non ha l'immagine l'immagine comune e questa è un'immagine che credo particolarmente inquietante per tanti motivi proviamo a vederli a meno quelli che inquietano e hanno inquietato me ho tante volte affrontato anche temi che a cavallo tra teologia e filosofia sulla straordinarietà di questo monoteismo cristiano che è un monoteismo è una religione il cristianesimo temi fondamentali sia della teologia che della filosofia dei temi fondamentali del pensiero occidentale europeo ma però poche volte la teologia io lo dico in inciso nel libro è molto indicativo che grandi filosofi che si sono interrogati radicalmente sulla identità dell'Europo cristianità e da cui deriva gran parte anche della rutenzione propriamente teologica contemporanea come Hegel come Schelling Maria neanche la citano il dogma dell'incarnazione viene trattato molte volte nella stessa teologia quasi sempre nella filosofia come questa questione della manifestazione di Dio il manifestarsi di Dio diciamo diciamo in termini filosofici dal punto di vista di questa filosofia di quella che si è interrogata radicalmente sull'essenza della cristianità è chiaro è essenziale all'essenza il manifestarsi no? sto parafrasando Hegel se non si manifestasse che verità sarebbe? sarebbe una parte un Dio trascendente semplicemente e che tenesse la realtà terrena umana come una sorta di altro da sé non sarebbe Dio è chiaro è evidente dice Hegel ma che mistero c'è in questo ragioniamo è evidente che la verità ha in sé anche il suo manifestarsi la potenza del manifestarsi bene e no il problema il problema è che perché questo questo incarnarsi di Dio sia reale veramente reale e perché che il frutto di questo incarnarsi come appunto nella cristianità afferma ed esige sia un vero uomo non un uomo in immagine non un fantasma di uomo ma un vero uomo è necessario un grembo un grembo di donna di reale donna Maria di Nazareth e allora se è essenziale all'essenza divina il manifestarsi è essenziale all'essenza divina avere in sé questo grembo materno è essenziale pensare ad una maternità in Dio altrimenti l'incarnazione è incomprensibile nella sua realtà diventa una rappresentazione puramente gnostica è la gnosi è la grande gnosi che riduce a pura rappresentazione tutto questo pura rappresentazione la carne di Cristo è una carne apparente la morte in croce è una morte apparente viene così rimosso lo scandalo appunto dell'incarnazione del logos per tenere fino in fondo però viva l'idea di questo scandalo cioè di questo impedimento di questa follia per dirla con Paolo rispetto alla Sofia è necessario pensare che vi sia un un grembo in Dio cioè che la figura della donna ma di questa donna reale perché se non è una donna reale allora l'incarnazione non è reale questo secondo me pone una grande questione anche per la teologia e non può essere messa come dire un po' accantonata oppure narrata anche secondo me il teologo che si avvicina di più a questa idea nell'ambito contemporaneo è Baltasar però anche lì non c'è l'idea che questa che questa maternità di Maria deve essere pensata enarchè enarchè proprio nell'inizio perché l'incarnazione del logos il farsi carne del logos deve avere come condizione di possibilità che quel logos appunto venga generato e quindi deve avere come condizione di possibilità la donna reale che realmente genere è il logos enarchè se quel logos che è scritto essere enarchè quel teos parat on teon e se quel logos è quello che viene generato ed è il logos che è enarchè questa possibile generazione reale del logos attraverso la donna deve essere altrettanto nell'inizio prima grande questione teologica che l'immagine fa risaltare l'immagine più che la teologia la centralità di questa figura di donna è una cosa che domina la nostra immaginazione occidentale europea è qualcosa che ci viene necessario pensare attraverso l'immagine più che attraverso la parola del teologo e ancora più del filosofo l'immagine ci impone di pensare questa donna l'immagine nella straordinaria ricchezza delle immagini perché appunto sono immagini diverse in cui però alcuni elementi possono essere colti insieme l'immagine che a me più colpisce è questa che appunto è nella copertina del libretto ma ce ne sono altre molte altre che cosa che cosa possiamo dire che le accomuni queste immagini facciamo un'immagine delle immagini per così dire o un simbolo dei simboli beh anzitutto in tutte queste immagini è evidente la è evidente il presagio no le grandi immagini della Madonna col bimbo questa le altre che ho citato nel libro e molte altre che avevo potuto citare hanno sempre danno sempre l'idea l'idea fanno sempre vedere fanno sempre vedere come nel momento della 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 prossimità originaria tra la donna e il suo figlio vi sia il presagio della fine il presagio della fine in quasi tutte le grandi immagini della donna col bimbo vi è questo presagio qui poderosamente in questa del Mantegna ma ve ne sono altre anche di del Bellini quell'altra del Mantegna di Berlino poderosamente il bimbo è nelle fasce certo queste sono le fasce in cui i bambini erano fasciati nel medioevo tutti i bambini erano fasciati però questo è anche il sudario evidentemente e questa straordinaria immagine della donna guancia guancia che è un'icona tradizionale orientale l'immagine della donna col bambino guancia guancia la glicofilusa è un'immagine tradizionale dell'icona bizantina ma qui come è rivisitata questa donna che tiene il bambino nella sua mano quasi a farlo respirare no? e dice la Madonna col bimbo dormiente ma che sonno ve ne sono un'altra del Bellini dove il bambino invece sempre dormiente è sulle ginocchia della Madonna ed è esattamente nella pose in cui in un'altra Madonna un'altra tela del Bellini è proprio la deposizione la stessa posizione la donna col bimbo sulle ginocchia deposto esattamente nella stessa posizione in cui è proprio il Cristo deposto sulle ginocchia della Vergine vecchia vecchia lì la Vergine è vecchia una cosa molto importante è la contemporaneità tra la donna e il bimbo la donna e il bimbo sono simultanei sempre se li vediamo l'immagine delle immagini qui è la la fanciulla con il suo giovane bambino è evidente la differenza di età ma ad esempio nella deposizione del Van der Weyden verrò sul tema della deposizione di nuovo la la Vergine che sviene e accompagna nel suo gesto ripeti in qualche modo nel suo gesto il motivo della deposizione del figlio che scende dalla croce è contemporanea del figlio è giovane esattamente come il figlio famosissima la la deposizione di di Michelangelo dove la Vergine è più giovane del figlio è esattamente la Vergine col bimbo che lì accompagna la deposizione del figlio ed è la Vergine giovanissima più giovane del figlio non vi è differenza di età tra la madre e il bimbo la madre e il bimbo se noi vediamo appunto l'immagine delle immagini ed è evidente che Michelangelo non era tutto consapevole quando faceva o essere anche vecchia nel caso del Bellini la Vergine è vecchia ma molte volte quasi sempre anche i teologi dicono che si ne ruga mentre è con le rughe e come in Bellini è con le rughe e come nella grande Trinità del Masaccio può essere con le rughe può essere senza può essere vecchia con il figlio più giovane meno giovane sorella praticamente a volte hanno la stessa età sono insieme in tutte le loro età sono insieme madre e figlio indigiungibili madre e figlio la madre con lei che è stata coperta dall'ombra del padre l'infante e agli infanti va il regno agli infanti va il regno questa donna che è tutta avvolta dall'ombra del padre che ne è l'ombra ma cosa vuol dire l'ombra per noi l'ombra è la rivelazione del divino noi il Dio non lo vediamo nella sua piena luce lo vediamo attraverso le ombre per questo lo dipingono i pittori e il bimbo l'infante a cui va il regno l'immagine del regno l'ombra del regno l'ombra del regno ma ombre sono quelle che noi vediamo ciò che ci appare il fenomeno ciò che ci appare non è il Dio in sé non è la cosa in sé noi abbiamo a che fare con fenomeni con ombre quello possiamo vedere nella nostra finitezza e queste sono le due le due ombre fondamentali del divino la madre e il figlio le due ombre fondamentali del divino l'unica manifestazione fenomeno il modo in cui ci appare il divino per noi sono queste due figure sono queste due figure la madre e il bimbo la madonna non partorisce dice qualcuno non abbiamo immagini della natività ma nella natività il bambino è lì la madonna l'ha già partorito invece ci sono anche le scene del parto della madonna come la madonna partorisce il figlio cioè partorisce veramente il figlio si manifesta il figlio nel momento della crocifissione lei è lì lei sola no? lei con la maddalena e due ebrei lì sono intorno alla croce mica gli apostoli mica i discepoli quelli sono spariti non ci sono più queste sono qui sulla croce c'è questo figlio e sua madre e due ebrei che lo tirano giù dalla croce i discepoli non ci sono come non ci sono nel sepolcro come non credono al racconto di maddalena il realismo dei vangeli come ci fa a non credere che non sia una storia vera quella narrata dei vangeli con la cattiveria con cui raccontano degli apostoli per forza dovranno essere veri i vangeli se li avessero scritti dopo e potevano averli scritti soltanto gli apostoli li avrebbero scritti così doveva essere una storia così vera che non potevano falsificarla più di tanto e quindi lì lei lo partorisce sulla croce il dolore del van der Weyden e tante altre scene della deposizione in cui la Vergine è sconvolta dal dolore è sconvolta dal dolore del parto è lì che partorisce il figlio lì è il figlio lì è l'immagine chiave del figlio il crocifisso e i francescani i grandi teologi francescani ne hanno detto meglio di chiunque altro è la concroce fissa Maria è la concroce fissa la concroce fissa queste sono l'immagine dell'immagine delle immagini che tutte che tutte che tutte in qualche modo può comprendere e avvolgere ma c'è un altro grande problema che emerge dalla riflessione su queste su questa coppia la vivacità di questa coppia la straordinaria inquietudine anche che sa suscitare eccetera è la nostra icona sostanzialmente è questa l'icona noi abbiamo icone della madre col figlio è l'icona e ha quel realismo che non ha certamente l'icona orientale l'icona orientale è sempre un'icona di trionfo oppure di simpatia e di affetto ma non ha la drammaticità di questa non avrete nessuna icona orientale che possa avvicinarsi alla drammaticità dell'icona di Giovanni Bellini della pietà del Bellini o anche di questo del Mantegna e questo è un tratto caratteristico del realismo della cultura anche letteraria non solo ovviamente pittorica dell'Occidente dell'Europa o cristianità ma solleva un bel problema che gli orientali Florensky prima citato ci dicono guardate queste immagini la ricchezza di queste immagini la profondità e la drammaticità di queste immagini e il padre è fino a fatto il padre dove? è questo che si chiedono gli orientali voi avete nella nella rappresentazione così pregnante della incarnazione il padre si è tutto incarnato in queste ombre in questi fenomeni in queste realtà che ci appaiono e che fine ha fatto? avete dimenticato l'icona non può dimenticarlo perché? perché l'icona è luce l'icona è un continuo anelito alla luce al trionfo della luce e in questa nostalgia di luce che domina l'icona e nella quiete delle sue forme nella perfezione delle sue forme e nella sua nostalgia di luce lì è il centro dell'icona e il centro dell'icona è il continuo rimando alla luce alla prima luce alla luce superiore a tutte le luci cioè al padre alla potenza del padre e le nostre icone questa è l'icona fondamentale questa nella straordinaria ricchezza in cui si manifesta tutte le immagini che la rappresentano ripresentano eccetera eccetera la povertà con cui le nostre icone mostrano il padre la povertà e si ricorda di una rappresentazione del padre rispetto alle potenze dei nostri crocefissi alle potenze della madre col bimbo è l'età del figlio è l'età del figlio ma a differenza di quello che diceva Schelling quando parlava dell'età del figlio è l'età del figlio con la madre della madre col figlio questa prossimità estrema della madre col figlio il padre dov'è? il padre dov'è? chi lo mostra? chi lo rappresenta? chi sa rappresentarlo in modo adeguato alla potenza di questa madre di questo figlio è lì ma è una trascendenza pressoché inutile è questa la grande differenza con l'icona orientale è una differenza teologica culturale filosofica è una differenza di civiltà questa è la nostra icona che non ha nulla a che vedere proprio nulla a che vedere alla fine anche dal punto di vista proprio pittorico eccetera con l'icona orientale questo è il problema fondamentale che teologicamente filosoficamente dovremmo dovremmo porci e pensare sulla base di queste immagini in questa donna appunto come dice Rilke come scrive Rilke come canta Rilke in questa donna matura Dio Gott Reift matura Dio in questa donna è come dire soltanto in questa donna in questa donna reale matura Dio cioè l'incarnazione divina matura fino a diventare questo figlio e quando è diventato questo figlio che è l'erede beh il padre è finito no? il padre ha finito ha finito si è compiuto si è compiuto l'età del padre si è compiuta Dio matura nel grembo di questa donna e avviene attraverso questo grembo è questo figlio è questo infante Dio che è vero uomo anche no? e subisce una vera morte e però risorge continua l'età del figlio fino alla fine dei tempi il figlio risorge con il continuo l'età del figlio ma mica che il risorto neghi il crocefisso neanche per sogno infatti è scritto rimarrà in croce fino alla fine dei tempi risorge ma risorge il crocefisso mica risorge guarito dalle piaghe risorge il crocefisso quindi risorge questo figlio risorge questo figlio risorge fino alla fine dei tempi questo questo è Dio fino alla fine dei tempi questo è Dio fino alla fine dei tempi questo e allora cos'è la fine di ogni trascendenza punto di domanda ma queste icone ci obbligano a ragionare così ci obbligano a pensare secondo questa prospettiva drammaticamente cioè si interrogano su questa prospettiva perché in molte annunciazioni vi è un padre compare un padre come nella grande annunciazione di Piero della Francesca ad Arezzo nel ciclo di San Francesco nel ciclo di Arezzo della leggenda della croce c'è questa annunciazione ma guardate la potenza io ne scrivo la potenza della figura della Vergine una grande colonna la figura anche qui la differenza di queste immagini lì in Piero della Francesca questa colonna monumentale che sembra sorreggere tutto e a differenza della figura umilissima della della Vergine del Beato Angelico a San Marco ma lì il padre per i cieli gli manda la sua potenza manda la sua ombra che è l'immagine della sua potenza e poi è lei qui è lei 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 che sembra benedire lei l'angelo qui è lei che benedice l'angelo non l'angelo che benedice lei assume tutta la potenza del padre e diventa e diventa questa figura che si dà in tutte le forme che ho detto che è mille vie come dice di nuovo Rilke che è mille vie qui compare secondo questa via e qui Mantegna compare secondo un'altra via la via del presagio della crocifissione e del proprio partorire il figlio crocifisso quindi il grande problema secondo me che mi sarebbe piaciuto svolgere di più rispetto a questo libretto ma diventava un testo più più complicato sviluppando le certe cose che avevo scritto anche in dell'inizio in opere più in lavori più più filosofici diciamo di questo di vedere proprio come questa questa icona della madre col bimbo ci permetta di ci permetta di di comprendere il significato di quella di quella che Scellin chiamava l'età del figlio secondo una prospettiva più profonda l'età del figlio e della madre e questa è questa coppia straordinaria che è coppia di fratelli di sposi che è tutto che sono tutte le possibili relazioni tra maschio e femmina maschio e femmina tutte le possibili relazioni sia davvero questa coppia l'incarnazione del logos ma in modo talmente radicale da obbligarci alla domanda questa coppia che è ombra del padre è anche un velo sopra l'immagine del padre fa anche ombra al padre quasi fino a farlo scomparire e assume tutta la potenza e lo eredita questa potenza in pieno e a questo punto quella potenza è sua di questa coppia questa è la domanda che per chi di voi legge questo libro vi inviterei a sviluppare e a militare per conto vostro grazie grazie scusa Massimo c'è un'icona che tu hai presentato che non hai ancora commentato e che richiama proprio la funzione anche del padre non lo spirito santo che è l'icona del masaccio quella dove è presentato Gesù in croce sostenuto dal padre e con la figura anche dell'immagine dello spirito santo e lì la la Madonna sembra avere una funzione soprattutto di mediatrice perché indica la passione di Cristo rivolta a noi quasi ecco lì non c'è la compresenza non solo della coppia Maria e Gesù ma anche di tutta la Trinità unita a quella tra l'altro c'è un'immagine simile anche nel nostro chiostro qui di San Domenico è tutto uguale quindi si vede che aveva già una certa anche significato questa immagine che fa qui del masaccio o altro come la interpreti hai ragione qui l'avrete presente penso è la la Trinità è la grande Trinità del masaccio che sta su un lato di Santa Maria Novella è una delle grandi delle grandi opere del nostro quattrocento del diciamo del primo rinascimento qui hai ragione qui vi è la Trinità certamente vi è la Trinità con il padre in posizione dominante come grande architrave della composizione però però è il Cristo insomma è il crocefisso il centro della composizione non c'è dubbio alcuno è il crocefisso che dispone dell'intera composizione il padre lo sostiene ma la centralità è la sua come in tutta la nostra iconologia come in tutta la nostra iconologia e qui la madre certo in termini teologicamente corretti svolge una funzione di mediazione come già prima era in Dante è la mediatrice l'ultima grande mediazione cioè con lei attraverso di cui attraverso il cui potere con lei che riesce diciamola in termini più breve possibile che riesce addirittura per amore a vincere la giustizia divina questa è la vergine di Dante riesce a piegare la giustizia divina grazie alla forza del suo amore la sua preghiera che è tutto amore riesce a piegare la stessa giustizia divina per cui bisogna sempre rivolgersi alla vergine la preghiera è la preghiera essenzialmente alla vergine audace superba in qualche modo la preghiera direttamente al signore la preghiera umana è la preghiera alla vergine che è la mediatrice e qui chiaramente Masaccio interpreta questo ruolo della Madonna in questo senso la Madonna appunto che ci guarda e indica il crocefisso Madonna vecchia segnata molto drammatico quello della Madonna la forza del Masaccio tutte le figure del Masaccio la terraneità di tutte le figure del Masaccio anche questa questa Madonna che non ha nessun tratto ideale il spirito è tutto incarnato qui è tutta dal punto di vista teologico una disposizione assolutamente 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 tradizionale non vi è dubbio però appunto ripeto a mio avviso il virgolette mistero di questa di questa di questa figura va 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 cercato dove è insieme al bimbo e insieme al bimbo o ai piedi della croce che sono due momenti assolutamente complementari indissolubili perché anche quando ecco il bimbo è già come qui in Mantegna una una memoria della sua una memoria della sua avvenire crocifissione no? anche nello sguardo di Maria perduto carezza il bimbo sostiene il bimbo ma al suo sguardo guarda guarda in basso verso verso niente non guarda il bimbo in questo in questa icona qui c'è il problema questa è un'immagine che potrebbe sembrare così normale tradizionale in realtà studiarla bene tu vedi che anche qui è l'inizio il padre è l'inizio è l'inizio il padre è l'inizio qui è il poderoso inizio eh ma c'è stata un destino che ha segnato questo povero padre questo povero padre è segnato un destino questo povero padre ha dato ha un suo doppio che è il logo se il logo è finito così è attraverso una madre è l'inizio ma questo inizio si è compiuto l'inizio nella nostra nella nostra nell'Europa cristianità si è compiuto si è compiuto nella madre col bimbo con tutto quello che ciò significa e che gli orientali ci hanno detto e ripetuto mille volte non riuscite a tenere non riuscite a custodire a custodire viva viva la memoria del padre non riuscite a custodire la viva quella memoria questa 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 persona del divino la perdete l'avete perduta le vostre icone l'hanno completamente perduta quella luce da cui tutto è provenuto e e e questo e questo dramma tra tra oriente e occidente della cristianità è un dramma che 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 forse non avvertiamo neppure più ammesso che si avverta ancora qualcosa di questi problemi cioè ammesso che ci sia ancora dalle nostre parti una qualche passione sia da parte credente che non credente per Dio ma c'è ancora questo non so Giovanni lo saprà meglio di me che che vi frequenta secondo questa prospettiva no vi è una passione per Dio per la questione Dio o vi è soltanto una passione per le conseguenze che ce ne hanno sociali etiche di recente ho partecipato a un dibattito su Lutero con Prosperi con Adriano Prosperi il quale sosteneva che la teologia di Santo Maso era impostata su Dio quella di Lutero era impostata sull'uomo io gli ricordavo che nella nella Somma Teologica la prima parte è dedicata al Dio e alla creazione e alla luce di Dio no la seconda parte è dedicata all'uomo nella nella sua dimensione soprattutto etica morale e la terza parte è dedicata all'uomo Dio che è la sintesi della divinità e dell'umanità nella incarnazione soprattutto e poi anche nel cammino che che la terza parte indica di ritorno a Dio attraverso la chiesa attraverso i sacramenti soprattutto ecco è Cristo via come tu metti in risalto quando parli delle fuori di Cristo e quindi c'è questa compartecipazione della divinità e dell'umanità nella persona di Cristo e proprio qui lì si colloca la grande figura di Maria la dignità di Maria come con lei che è stata quella che ha permesso questa questa unione di Dio con l'uomo ma c'è anche questa dimensione di destinazione che non è puramente qualcosa di terreno è quella che San Paolo chiama la ricapitolazione di tutta l'umanità e la storia in Cristo e attraverso Cristo in Dio perché Dio sia tutto in tutti questo è un po' la visione escatologica e che sia presente anche in questa dimensione escatologica tutta la dimensione umana di Cristo questo è vero Cristo ci appare anche nel 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 giudizio finale ci appare nella sua umanità perché come avremmo avuto compassione di Lui nella sua umanità e nella nostra umanità così avremo la compassione di Dio nel nel giudizio finale ecco questo è un po' l'aspetto che io colgo in questa dinamica di resurrezione di luce e di ombra che accompagna un po' tutto il tuo libro nel presentare soprattutto l'icona di Maria con Gesù ma non so forse tu volevi appunto sentire qualche intervento da parte vostra di riscontro di quello che abbiamo detto di quello che voi avete quelli che hanno potuto già leggere Cacciario di quello che lui ha detto questa sera c'è qualche domanda o qualche qualche domanda non degli interventi lunghi quando lei parla di iconografia orientale si riferisce a quella islamica che non c'è a quella bizantina 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 anche lì io ho visto sempre è soltanto icone di madonna nella tradizione bizantina c'è sempre l'icona con il bambino in vari c'è l'icone fondamentali sono quelle dell'affetto diciamo che possono essere guancia guancia oppure anche no poi c'è quella dove Maria indica il bambino come indica la strada si chiama così e poi c'è quella con la madonna con la mandorla in seno e il bambino sono tre fondamentali tipi di icone bizantine che si susseguono praticamente con le stesse forme fino a desaurirsi in niente perché poi tra l'altro dal punto di vista proprio della forza della rappresentazione queste icone che vogliono tenere ferma l'idea appunto di una di una di una vergine in qualche modo destinata ad essere la madre di Dio ma tutta dominata da una potenza che la trascende non esiste il tema cioè non troverà mai un'icona bizantina che accenni a questa a questo a questo gesto della che ricorre in tante altre della dell'annunciazione di Simone di Simone Martini dove si ritrae dubita medita dubita e obbedisce non in modo servile ma obbedisce nel senso che ha la forza e la capacità di ascoltare quest'annuncio e riconoscerlo dopo averlo meditato e dubitato cioè il suo sì non ha niente di servile se non avesse detto sì e se e se e tutto diventa una una commedia se non se non si comprende così e se non si interpreta così ma come diventa una commedia anche la passione di Gesù se non si commenta così se lui se lui era costretto comunque destinato per sempre da sempre ad accettare quel calice ma che roba è lui poteva rispingerlo quel calice devo dire no nella rappresentazione del rapporto madre figlio nella iconografia cristiana c'è questa complessità proprio del rapporto che lo umanizza ne fa qualcosa di coinvolgente insomma per per l'umanità e e poi vabbè è probabile certo dietro questo c'è la ricchezza del messaggio evangelico e poi c'è l'elaborazione culturale artistica dell'Europa perché c'entrano molto anche i pittori anche quelli che hanno fatto la rappresentazione con la loro cultura insomma con il loro immaginario per cui ne viene fuori una ricchezza enorme insomma di questo modo di rappresentare non la trascendenza ma l'umanità l'umanità di di Gesù ripeto che a me pare che le immagini di di questo rapporto di questa relazione dicano su di su su questo rapporto più del teologo di colui che parla di colui che discorre di colui che cerca di spiegare questo e dicono di più della drammaticità di questo rapporto ce lo spiegano meglio a meno a me è capitato così la mariologia teologica l'ho sempre trovata di una di una freddezza rispetto a queste immagini incredibili queste immagini dicono di Maria e del bimbo e del loro dramma più di qualsiasi parola questa è la mia è sempre stata la mia come dire impressione arricchessa dell'immagine don giovanni ma premetto che me ne intendo poco di queste cose però mentre ascoltavo è cresciuto dentro di me un certo imbarazzo su questa figura del padre è un po' ingombrante e un po' effettivamente con il desiderio di mettere una mano e questo però mi ha fatto un po' pensare alla forse opportunità di interrogare un po' di più il mondo ebraico perché loro lui non lo nominano e quindi non c'è l'ingombro del padre c'è nel testo di Isaia di domani ma è proprio allora in relazione a Israele che è un figlio ed è un figlio però evidentemente che è all'interno del mistero grande e quindi mi sono chiesto se non siamo stati troppo imprudenti a scartare il silenzio ebraico sul nome di Dio e ad familiarizzarlo fino a farlo diventare imbarazzante nel nostro linguaggio familiaristico perché ho l'impressione che se non lo nominiamo è all'interno di questo Dio di cui non si può dire il nome che allora anche la figura della umanità come materlità e così trova evidentemente il suo posto ma non me lo intendo eh ma qui è la grande differenza no? mica si possono gettare i ponticelli sull'abisso no? certo è il Dio nascosto ma il Dio nascosto che si manifesta continuamente si manifesta lui è lui in tutte le cose sempre lui il protagonista è lui il proto agonista è lui no? certo rimane il Dio nascosto il Dio che non puoi pronunciare ma di lui dice tutta la storia di Israele di lui dice tutto è sempre lui il protagonista qui l'evento è straordinario perché una donna lo genera una donna lo genera questo non c'è c'è più niente qui c'è una discontinuità come si fa a non coglierla come si fa a non vedere c'è una discontinuità e di nuovo le immagini nella loro quasi impotenza rappresentare il padre lo dichiarano perché se il Dio si è incarnato è chiaro che l'immagine è necessaria questa è proprio della teologia bizantina dell'immagine, si è incarnato è chiaro che posso rappresentarlo si è incarnato, quindi lo rappresento è il bimbo, è il Cristo è il crocefisso posso rappresentare veramente Dio, perché è veramente Dio si è incarnato, veramente uomo e come? Non posso rappresentare un uomo quindi e aggiungo certo, e non rappresento il padre, ma non rappresento ma c'è una bella differenza, quello era il padre che mica aveva il figlio sì, Israele, ma è ben diverso cioè qui c'è una discontinuità non c'è dubbio una discontinuità teologica una discontinuità culturale ne discutavamo ieri a proposito anche della riforma e di Lutero con Ricca e con altri insomma bisogna che bisognerebbe che ci decidessimo no? Cioè sopportiamo l'out-out e riusciamo ad essere amici anche anche assumendo presupposti di valore teologie diverse eccetera eccetera oppure per essere amici è necessario che che facciamo e che combiniamo un po' di confusione tra i nostri linguaggi ecco questo è il punto che io ancora non ho capito come come siano orientate le chiese come siano orientati i teologi eccetera eccetera no? da un punto di vista filosofico mi è molto chiaro no? io sono in disaccordo con una filosofia eppure possiamo continuare a essere amici anche se se uno è analitico e l'altro è continentale vabbè ma non ho capito bene no? adesso anche questa in occasione di queste di questo anniversario della riforma secondo me si assiste a un tentativo di trovare compromessi di trovare i via di mezzo di trovare ma non sarà di nuovo che questi tentativi appunto di confonderci perché probabilmente temiamo di nuovo di massacrarci derivino dal fatto che che invece che invece è cessata ogni passione per le cose ultime detto teologicamente ogni passione per Dio cioè che le questioni ultime in fondo non interessano più e quindi vabbè e questo è il punto cioè qui c'è un abisso insomma qui c'è un abisso c'è una discontinuità e dopo di che il cristianesimo certo che non è concepibile certo che certo che anche da un punto di vista puramente storico e filologico come dire a torto marcione come fai a dire che il Dio del Nuovo Testamento non è quello del Primo Testamento come fai a dire che non è e come fai a dirlo Gesù lo dice continuamente che è il suo Dio ma non puoi nemmeno nemmeno all'acquare quel ma vi è stato detto ma io vi dico insomma quella quell'allamica puoi dire vabbè insomma eh no eh no no e la teologia che si elabora su quella su quella discontinuità è la teologia trinitaria è la teologia trinitaria ha a che fare con questa donna ha a che fare con questa donna la teologia trinitaria se no l'incarnazione diventa una commedia se no l'incarnazione diventa quello che dicevano i mistici ma cos'è questa storia dell'incarnazione in fondo ogni volta che io ho fede e credo genero il verbo bene fine allora sono madre io sei madre tu sei madre lui siamo madre tutti ed è una una riduzione teologico filosofica spiritualistica di tutta questa vicenda no perché se l'incarnazione vuol dire soltanto che ognuno di noi credendo genera il verbo ma quello che tu ne parli in Sofia nel capitolo della Sofia il fatto che ci sia propria della generazione di Maria e siamo tutti che hanno fede generatori questo è proprio di che cosa dell'agnosi dell'agnosi ma anche di una certa mistica di derivazione neoplatonica spiritualistico neoplatonica che spiega sostanzialmente in termini filosofici spiega filosoficamente l'incarnazione il mio amico Marco Vannini è l'esponente più 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 importante in Italia di questa di questa visione filosofico spirituale idealistica del 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 dogma della dottrina cristiana certo va bene ma allora allora perché Maria perché la donna perché il grembo dell'incarnazione diventa diventa un atto del mio spirito un atto del mio spirito di cui sono capace io come capace Giovanni come capace qualsiasi altro uomo donna allo stesso modo concepisco il verbo cioè che cosa lo comprendo e il grembo diventa che cosa il mio cervello la mia capacità di generare è identica alla mia capacità di comprendere e tutto si spiritualizza tutto si spiritualizza a mio avviso non c'è nulla di più strano di questo idealismo spiritualismo del cristianesimo c'è una domanda della Diana volevo dirti che mi ha molto colpito la tua insistenza sulla vicinanza del momento della nascita e della morte fin da quando ero bambina mi ha sempre colpita il turbamento che ha provato la vergine nel momento in cui è stato fatto l'annuncio però l'ho capito solamente quando sono diventata madre perché non c'è niente di più terribile nel momento in cui hai un figlio del fatto che nel momento in cui lo fai nascere pensi che morirà nel momento in cui lo tocchi pensi che morirà e quindi questa cosa che tu hai detto è di una prossimità con la nostra esperienza e col nostro modo di sentire il figlio che nella vergine è diverso perché colui che è nato e morirà permetterà la vita per il cristianesimo ecco per chi fa un figlio diciamo umanamente senza essere la vergine questo non sempre si riesce a pensare sinceramente è molto molto difficile questo momento per cui mi ha colpito quello che hai detto perché è proprio così anche nella esperienza normale della vita normale ecco l'ultima domanda perché un ultimo intervento perché poi purtroppo dobbiamo anche concludere il professore ha così meravigliato spiegato come il parto non si parla mai del parto non ci sono icone sul parto perché il parto è sotto la croce quando Maria assiste lei sola e altri due ebrei mi è venuta la curiosità c'è però una rappresentazione non del parto ma della gravidanza di Maria e della madonna del parto di Piero volevo sapere cosa ne pensava il professor sono tante madonne del parto è di nuovo è proprio proprio di nuovo siamo in quella dimensione di grande realismo che proprio di questa di queste icone di queste immagini guarda è parto vero è parto reale cioè è gravidanza reale sono pregna realmente non è non è la mandorla delle icone orientali dove è praticamente l'equivalente dello spirito del cuore di Maria è la sua pancia in Piero della Francesca in Piero però Maria anche nella madonna del parto di Piero Maria è signora è domina è domina Maria è domina ancora più che in Dante domina Maria non è l'immagine della misericordiosa pietosa affettuosa eccetera eccetera è l'immagine della domina della signora e questo fa delle delle immagini di Piero un ricordo molto diverso rispetto a quelle del beato angelico e soprattutto di quella straordinaria di San Marco dove c'è questa vergine quasi smagrita umile obbediente ma in dialogo in rapporto con l'angelo senza nessuna genuflessione servile nei suoi nei suoi confronti anche lì il domenicano è importante quella presenza perché la presenza del domenicano significa li ho visti io sono qui sono realmente qui sono realmente in questa cella l'angelo e Maria la presenza del domenicano realizza incarna ulteriormente la scena è testimone della sua realtà il domenicano in quella cella dentro la cella con l'angelo e con Maria ma sono mille vie Maria nella nostra iconologia mille vie cioè si presenta in tante età in tante forme in tante immagini bisogna comporle tutte ma quando le abbiamo ricomposte tutte in un quadro unitario emerge la domanda diciamola così che non è né teologica né filosofica ma in questo modo di civiltà che ne è il padre in questa civiltà è una figura perché non rientra mai in questa in questa perché non ha mai a che fare con questo gesto di così straordinaria prossimità in pugno appunto come dico la distanza è appunto come il prossimo non prossimo vuol dire prossimo essere prossimo uno vuol dire mantenermi a distanza da lui sono due figure distanti questa prossimità estrema che mantiene la distanza se non sarebbe prossimità perché il padre non interviene mai perché la prossimità è tra la madre e il bimbo la prossimità è questa da qui alla croce è questa ma anche dopo anche quando si sposano in cielo i trionfi l'assunzione di Maria e le nozze in cielo con chi? col figlio e non si sposa col padre e voglio dire stringono un'alleanza insomma un'alleanza come scrivo alla fine ma ripeto con tutti i motivi che andrebbero approfonditi e svolti è una è una discontinuità radicale rispetto all'immagine del pater potens la potenza paterna la patria potestas cosa ci sta a fare qui? e come ci dicessero insomma figli eredi liberatevene la relazione di prossimità è tra la madre e il figlio patria potesta si è finita il pater potens è finito la figura del potere paterno è finita l'essenziale è il rapporto tra la madre e il figlio tra la madre e il figlio che non sono soltanto la madre e il figlio perché appunto la madre a volte Michelangelo è più giovane del figlio morto sono coetane uno è più vecchio l'altro più giovane una volta più vecchio lui più giovane lei sono coetane è la stessa età sono appartenenti hanno la stessa età madre e figlio e questo segna questo rapporto qui segna la nostra età e perché ci tiriamo dietro sta patria potestas che senso c'ha ancora il padre potente inauguriamo un'età della madre e del figlio e liberiamoci dei padri però in ogni caso Gesù lo chiamiamo il figlio e il figlio è sempre che ama relazione col padre no ma Gesù nella sua vita quando fai miracoli fai miracoli invocando il padre quindi c'è questa relazione tra figlio e padre c'è c'è ma il figlio è sempre fuori come dicevi tu prima il figlio è fuori e via è fuori da ogni relazione allora da questo punto di vista è fuori anche dalla relazione con la madre chi sei tu donna chi sei lasciami andare e la madre lo lascia andare perché nei Vangeli la madre Matteo fa la fa la sua genealogia ma poi la madre nei Vangeli fino alla croce allora ritorna fuori no quindi il figlio va il figlio va fuori il figlio va fuori anche qui no la madre mica lo trattiene c'è una figura della madre col bimbo che lo trattiene nell'icona orientale quando c'hai la mandola dentro lì la madre lo contiene lo trattiene ma qui il Piero della Francesca è pregno ma lo partorirò presto tra breve lo partorirò e se ne andrà e se ne andrà è la forza del Vangelo Giovanni è la forza del Vangelo anche quando risorge Lazzaro va va lo risorge va va via va via va via fa esodo va via ma va via anche dal padre per tornare certo ma per tornare deve essere andato via al limite deve essere andato via come il figlio il prodigo se non vai via come il figlio il prodigo e stai a casa sei come l'altro figlio quel deficiente dell'altro figlio che sta lì a casa ma cosa vuoi gli fa il padre ma cosa vuoi non hai capito niente devi andartene devi andartene radicalmente se vuoi essere in coerenza con quel padre con un padre che vuole essere abbandonato vuole essere abbandonato e è lì che attende che il figlio gli torni vuole essere abbandonato gli dà l'eredità un padre che gli dà l'eredità prima di morire non vuole essere abbandonato è evidente che vuole essere abbandonato gli dà l'eredità va via e dopo attende spera attende disperatamente che faccia ritorno liberamente liberamente è un padre che ti fa andare via questo è e questo dice l'icona questo non significa che il figlio ritorno al padre si ritorno al padre attraverso tutta una vicenda è fuori è fuori è fuori fino alla crucifissione è fuori risorge ma fino alla fine dei tempi torna al padre soltanto alla fine dei tempi Giovanni sto figlio torna al padre soltanto alla fine dei tempi ma ma anche quando nel giorno del signore torna al padre fino al giorno del signore è solo sto figlio con sua madre parli anche dalla maddalena dopo la risurrezione ma perché deve tornare al padre quindi cioè non dico questo perché effettivamente noi rischiamo di come dice Galimberti di farci una religione dal cielo vuoto no perché perché forse perdiamo di vista questa dimensione del ritorno al padre di ritorno a Dio come che la strada è la via che ci indica Gesù attraverso la sua risurrezione no la sua ascensione al cielo che è anche l'assunzione di Maria c'è questa comunanza tra Maria e Giuseppe e Gesù non soltanto nella croce ma anche dopo nella via dell'assunzione sono d'accordo su questo indicano la via appunto del figlio al prodigo indicano la via indicano la via del ritorno ma questo ritorno quando si conclude di nuovo nell'immagine quando si conclude lì assunzione eccetera e lì in fondo si conclude quando? si conclude nel giorno del Signore si conclude nel giorno del Signore si conclude può concludersi prima del giorno del Signore no è questo cioè la grande parabola l'incredibile parabola del figlio al prodigo è tutta la legge in chiave scatologica tutta la legge in chiave scatologica è il giorno del Signore il figlio al prodigo torna e lì si fa la grande festa è la festa del Signore è la festa del giorno del Signore bene ringraziamo ringraziamo tutti noi per questo approfondimento che abbiamo potuto fare ma soprattutto attraverso le pagine di questo libro credo che abbiamo modo di entrare in questi temi che abbiamo in quest'ora e mezzo ricerato e ecco vedete la collana del 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 mulino si intitola pensare per immagini ecco noi penso che in quest'ora e mezzo abbiamo imparato a pensare ci ha fatto pensare per immagini questo è il dibattito che abbiamo avuto quindi ringraziamo in particolare Massimo per avercelo permesso applausi 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 abbiamo applausi applausi applausi